Vorrei mangiare arancini tra le tette della Francine Per mettermi alla guida con Gloria Guida che me lo succhi e grida La mia vita è un giallo tipo Agatha Christie Tu vuoi di più ma non rischi Whisky, doppio e poi si parte Chismi sotto rilassante Troppo rilassante Scusa ma vi crepo, te di tuoi sonnetti Non vi manca tempo con i fazzoletti Smetti, vedo rap e cucinati male Mac Crispy, il mio rap fa rapare Mac Christie Non mi interessa la politica, Giorgia Meloni Mi interessa più la fica, cosce e meloni Test, 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 test One nel nome, io non prendo scorciatro, yeah Cresciuta, pane, beat, super santo, stifa street Senza cellulare, li panchini, i primi fleet Panculo vuoi li views, io vi scatto tipo pus Se mi rilasso con Pino A me mi piace blues Rappo in italiano e calabrisi, double impact Tu capisci citazioni, incoglionita Si sacciura paro no, mi pare evidenti Puro si sta genti, dicino continuamente Sentimenti, come un stadio in Vicenza E nenti, d'ogni un flow in beneficenza Ma pizzo ci si caro, culli rimini un sicario Falsi te puttani, ed in mo' che cala tu si pario Test, 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 test Io non prendo scorciatroie, solo, come Bobby Loco, come Donnie Rapper triste, mi scoccerò A riviste, misogeno In test ho solo rap e forfora Fisto sto cielo rosso porfora Gira la testa tipo trottola Non sono l'ennesimo che ti dice guarda flow Ma sono me medesimo, dimmi ti basto o no Mi bastono con l'hip hop stile beastie boys Io non faccio hip hop alla backstreet boys Cerco la semplicità, Sandra e Raimondo In questo mondo immondo, ancora che non mollo E questo era un po' di stile, libero sulla traccia Bella DJ testa, è a chi ci mette la faccia Ora apri le orecchie e chiediti perché, perché Perché c'è questa bolla di impunità Per la quale le leggi che escono da questo Parlamento Da questo e dai precedenti Leggi che sono state dichiarate addirittura incostituzionali E voi meglio di me sapete che sono delle leggi che non hanno Non dovrebbero mai dovuto avere effetto giuridico Non sarebbero dovute esistere Quelle leggi hanno provocato effetti importanti Vedo giovanardi La fini giovanardi Persone che sono state in galera per una legge Che non sarebbe mai dovuta esistere Come giustifichiamo questo alle persone che invece di quella legge Si sono viste colpite e ne hanno pagate le conseguenze Come giustifichiamo che per anni ci avete mandato a votare con una legge Che non sarebbe dovuta esistere Allora noi qui in Parlamento ormai ci siamo da due anni Vediamo come funziona Ogni commissione è competente per la propria materia Ce ne sono solamente due di commissioni che puntualmente devono esprimere il proprio giudizio Su tutti i provvedimenti che passano Una è la commissione bilancio Che deve garantire la copertura E una è la commissione affari costituzionali Che deve garantire che quella legge ha profili costituzionali Io voglio che i cittadini vadano a leggere chi erano i commissari di quella commissione Quando hanno detto che le leggi che oggi ci costano 50 miliardi di fiscal compact Perché ci venite a chiedere dove troviamo la copertura di 16 miliardi per il reddito di cittadinanza Chiedegli dagli anni come trovate 50 miliardi l'anno per 20 anni Per pagare il fiscal compact Chiedete questo Non chiedete a noi come facciamo a trovare i soldi E li abbiamo trovati per garantire dignità e libertà alle persone Chiedete perché ci avete costretto invece a pagare 50 miliardi che ci mettono sull'astico Chiedete per permettire attenzione Chiedete who Adam Chiedete hai canzionismo Chiedete ho fatto coffee 희망 Sì Chiedete